nocchia si prende la piscina va prendere i bracci prima vai uno poi no stare non deve vedi la piscina va deve andare è stato un po' di più ok 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 vedi io so che si dipenderai vedi qua qui 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 Bene, andiamo in giro. Bene, andiamo in giro. Bene, andiamo in giro. fuori verso braccio, e avanti, adesso voglio che si senti solo questa cosa, si voglio attaccare qui e qui, vedi, si voglio attaccare qui e qui, in direzione ai ginocchi, però anche solo qui, qua dicono che deve chiudere bene i suoi braccio, chiuderebbe che si so bene, no, ridrizzare, e quando chiudi, poi controlli con il ginocchio, e non vedi, non permette che tu scappi, ah ah, che Beetha nelbringen, avanti, no 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 Io faccio il contesto copri, però non unisci i zambi, io provo a liberarmi, ginocchio tra forza, tra ginocchio e braccio, braccio-spini, ginocchio in contratto. Io faccio il contesto, braccio destra, controllo il contesto, da sopra, non c'è troppo, così, vedi? Vedi, ginocchio, ginocchio, diciamo, bro, spingi con ginocchio avanti, proprio, vedi, ginocchio non lavori, ginocchio, 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 spingi, o, o, vedi? Sì, verso di te con ginocchio, hai capito? Sì, questo, oh, e adesso devi uscire fuori verso spala, sì, riesci di là, no, 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 riesci di là, oh, oh, riesci, riesci, oh, ok, 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 ok